Benvenuti nel mondo degli orologi Vastok. Vastok è un marchio di orologi e di movimenti meccanici di alta qualità che ha una storia unica e interessante. Fondata nel 1942 in Russia, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'azienda ha iniziato a produrre orologi sia da polso che da muro, e movimenti per altre aziende di orologi. Per poi nel 1965 diventare il fornitore ufficiale di orologi militari e subacquei per le truppe dell'Unione Sovietica. Gli orologi Vastok sono famosi per la loro robustezza e affidabilità, e il design unico e distintivo li rende riconoscibili in tutto il mondo. Molti modelli Vastok sono stati creati per l'uso in condizioni estreme, come le spedizioni scientifiche russe in Antartide o le missioni spaziali sovietiche. Uno dei modelli più famosi di Vastok è il Komandirsky, introdotto per la prima volta negli anni Sessanta ed ancora in produzione oggi. Il Komandirsky è un orologio militare famoso per la sua resistenza e longevità, ed è stato utilizzato dalle forze armate russe e sovietiche. Vastok ha anche prodotto diversi modelli di orologi per il mercato civile, come il modello Amphibian, introdotto negli anni Sessanta ed ancora un modello molto popolare tra gli appassionati di orologi meccanici. L'Amphibian è famoso per la sua resistenza all'acqua, la sua facile leggibilità del quadrante anche nei posti più bui e per la scala di misurazione del tempo di immersione presente sulla lunetta girevole. In conclusione, Vastok è un marchio che ha fatto la storia della Russia e dell'Unione Sovietica, producendo orologi meccanici di alta qualità a prezzi accessibili, utilizzando movimenti di produzione propria. Questo ha reso il marchio molto ricercato da appassionati e collezionisti di tutto il mondo.